Domenica da dimenticare anche per la Normeccanica Volley, che dopo il successo europeo e la conquista anticipata dei play-off dei Champions, cade per 3-1 nel fortino delle campionesse d'Italia. La pomica salmaggiore regola infatti le bianco-blu, ancora una volta orfane, della Mainers e prive della palleggiatrice serba Mayra Ornevovic. Una caduta che si materializza dopo due set all'insegna dell'equilibrio con l'astro-kite che guida la formazione di Gaspari in un secondo parziale che vale un illusorio 1-1. Nei set conclusivi infatti i piccinini e compagni salgono costantemente di intensità e regola non ormeccanica che scivola ora al quinto posto. A 4 punti dalla battistrada Conegliano, a 3 dalla seconda della classe Novara, proprio a domicilio delle piemontesi, saranno attese sabato prossimo le ragazze del presidente Cercello, chiamate ad un immediato riscatto.